Capoliveri, Vico, Pisano, Gragnana e ancora Rosegnano Marittimo e Castiglione della Pescaia. Sono questi cinque luoghi protagonisti di un'altra estate, la manifestazione turistica promossa da Regione Toscana. Toscana a promozione turistica con la collaborazione del quotidiano Il Tirreno e il supporto di Fondazione Sistema Toscana che si tratta dal 27 luglio al 31 agosto prossimi. Cinque tappe dunque nei borghi gioiello della Regione. I borghi crescono, crescono con la stessa media, forse anche qualche punto in più con cui cresce il sistema generale del turismo in Toscana quindi si attestano attorno a una crescita del 3-4% rispetto all'anno scorso. Tenendo conto che i borghi non sono una nicchia limitata in realtà il turismo in Toscana fatto nei borghi rappresenta più del 10% di tutto il movimento generale della nostra Regione. Ne stiamo parlando di diversi milioni di presenze, quindi di notti dormite nelle nostre strutture e di singoli turisti che scoprono la Toscana. Il cartellone di un'altra estate prevede degustazioni di vini e prodotti locali, talk show condotti dalla giornalista Irene Arquint e ancora proposti di itinerari turistici negli infopoint. Il quotidiano Il Tirreno organizzerà poi un contesto fotografico. I migliori scatti saranno selezionati da una giuria che premerà le foto più belle dei borghi toscani. Un giornale è innanzitutto una bandiera identitaria e questa iniziativa dell'altra estate ci porta alla riscoperta dei borghi della Toscana. Certo cinque sono soltanto una parte minima delle bellezze artistiche di questa Regione, però abbiamo individuato questi cinque borghi perché pensiamo che in questi borghi ci sia un momento di identità molto ma molto forte.